ma donna sanno ultimi pareti vogliamo tankerimo mi raccomando devo fare io devi essere tankerimo ma che cazzo solo io tra l'altro è un cosa tankerimo che mangiare quasi diventa gigante e per esempio io mangiando guadagno vita stendardo le sarebbe felice si è e come si sarebbe felice sai quanto piacciono a stendardo le cose grosse sarconavo consigli per questo match abbiamo rai strindamer mordekaiser kartus anni ed è la prima volta che uso vladimir siamo morti no però non sono stati bravi quelli della riot hanno fatto vladimir che è un vampiro ladro d'anime e sembra ride sembra cosa sembra raziel di di legacy of kane di conseguenza è un senso perchè è un antivampiro razzia 4 uso un antivampiro allora questa parte come femmina light e'nclujens vladimir mi ha messo il ragazzo q spaccatura rompe il suono in un luogo disegnato i nemici sono stati in aria ok w urlo bestiale senti nemici è l'aria con conica ok e terza cos'è che fa spine vorba l'attiva e ti attiva i tech in base lanciano delle spine che evidenti danno e divorare ah e' la mia ulti divorare che schifo è un p porca puttana si è preso solo un colpo di torre quella ma ti ho solo vita a mangiare ma la devi mangiare con la r e' solo c'è puoi mangiare chi vuole con la r però devi aspettare la r ma posso one shotare mangiando? no one shotare però togli un botto di vita allora sto tipo non riuscire a mangiare quel bone con metà vita perchè sei già così tanto morto della bella re sto imparando e datemi un attimo ma è fatto una bella mossa e dei presi tutti praticamente e' vero ero io un p e' 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 un problema ti li attiva le spine eh simone? ah perchè e' allora perchè si attiva disattiva? perchè e' l'ho chiesto anch'io perchè delle volte può servirti avere raggio delle volte no ah ma ha più raggio se si esatto no non usarla contro i minion è vero fuori campo no arci perchè arci ma non mi puo prendere va bravo killer vedo che intuito ma ma io voglio mettere in dramma dirimi che ti capita sempre mi son chiuso oh tre porchi KS tu ricordati che fondamentalmente io sarebbe un tank si ma si fanno al terzo tentativo ce la faccio standi dimmi intanto fin dal poro intanto cazzo è vero scusa scusa e' proprio di ha detto ciò sarebbe incivile non ucciderlo ahahah 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 mamma mia questa è tutta bella no no comunque ti dicevo guarda che io sarei un tank come hai visto vedi che Tryndamere non mi fa niente è un top laner ho p come la merda vladimir peccato che non sappia farlo scusate scusate facendo il punto in luogo con la carattina torato ho provato ma mua dai lo scato io sto scherzando io non volevo farmi del male quanto capitano le indietro c'è tra l'altro io ho pochissimo gold sapete si e voi quanto gold avete bella killer oh killer cazzo stai essendo abbastanza OP e vabbè sono trovo smart con Jinx sono lo stesso sono morto ah con solo mp user la ulti che balle eh si anche la Q già ho visto prendi la vita killer eh killer vabbè fa niente prenderò io perchè la vita prima di inter me serve una ce ne hai messo di tempo mica a far fuor volti il suo verso eh son trashato tra l'altro moriva ahahah tra l'altro moriva moriva lo stesso perchè gli avevo ultato e tu che sei? sono vladimir e quando hai perduto? all'inizio della partita sai com'è? ah e quando hai iniziato eh e vabbè non riusciamo a salvarlo DAI non siamo riusciti a salvarlo non siamo riusciti a salvarlo user in your channel timed out cazzo io lo scanso io lo scanso qualcuno vuole una tazza di tè? oddio si sta innamorando di Chogart gentiluomo no solo il gentiluomo è figo e compri la skin io posso mangiare anche i minion recuperar vita e vale sta carica chiedo sto chiedendo è un fantasma si si puoi mangiarli ma non è la re Sono un uomo capo camaco Bella, bella Io disturbo un sacco Mi piace Niente, sono morto No Si Lo farò Mamma mia che stupido Bella, killer Pensavo di non averla sparata per quanto la gara E so che non c'è i mici, tocca a me stuprare Che palle Lascio un po' di stupido anche a me Iniziamo a ricollettermi L'ho mangiato L'ho mangiato veramente Aiutatemi, aiutatemi Perché sei rimasto indietro Io non ho vita Lo stesso, uccidevamo anni L'ho mangiato La doppia v killer E che c'entra, avrebbero stato male Eh, lo stesso, ma l'avresti rallentato abbastanza La tripla Q, che l'arcivo La tripla Q La Q La Drak Q Devi premerla tre volte però Perché se no E si, tu non li basta O sbagliarei Cazzo, lo mancano un po' Non sbaglio, non sbaglio E alzio si prende danni da sciacco Eh, vabbè, però lì è stato ben stupido lui No, ma mi ti tornato Sì Come ti permette? Spermo che cresci il nuovo Speri che è tipo Ma cos'è quella cosa? Il fantasma di sciacco Sì Sai che con la schigna non avevo proprio conosciuto il fantasma Ma no, dai, non puoi sopra la prima Però, perci Spermi stato un insulto a Anna con un po' Pugno di eserato Pensavo a tutti i denti d'uomini Non male Devo mangiare Non mangia Ma sta che tu lo muovi Ma no Ho tanto per la pittana, bravare Ti piacciono gli ultimi di Jinx in faccia, eh? Mangio! Mangia! Ma che ci muovi per il fuoco Mangialo! Ma che Cristo Ho mangiato o no? No Ho due cariche No, 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 l'ha mangiato Ho mangiato Voglio del mano Dattemi del mano L'unica cosa che posso fare è questa Che ho curato sciacco Ho curato la sua copia Perché? Non sapevo che sia possibile Ma quanta vita che gli ho tolto Vita, vita, Anna Oh, tie l'arte Oh, gente, sta per morire Porca puttana,hearted Crezzi, sei morto, bambino in mangio Troia che troia ma mi vendicherò oh mana tu non hai mana tu sei mana esatto chi ha mana tu sei mana tu sei mana tu sei mana tu sei mana io lo scampo su una pana con il cazzo di arctus e se mi lasci jinx tank no 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 che combinazione Stanley potentissima st'attento Ray che ti sta mirando perchè quando muore rimane lì a colpire hai capito ah ok è un fantasma chi è un fantasma vanno tutti un po' lasciando le case su di me stendardo sei cattivo nooo cazzo è grosso hai preso che eri full vita no l'ho sussato io l'ho sussato io scusa era colpo mia leggo l'obiettivo e penso a mickey perchè se sto molto per strada non vale tanto che cosa non so per tutta la vita devo mangiare devo mangiarlo la vita prendi la vita non riesco a usarla non riesco a usarla bella ult a cartus ult a perchè dai suggerimenti al tuo avversario ult a prendete la vita prendete la vita questo dove cazzo è uscito? mangiato no non volevo io toga ma così la finiamo troppo facilmente velocemente quanto vuoi farli soffrire però c'è War The Kaiser che rompia un sacco quel giorno è già morto no no cazzo vai standee ma le mie ulti non servono a niente sono inutile cazzo Vladimir è quello di lui eh sia attacca tipo un virus un virus un virus mi sono fermato stendete caldo io mi immagino Ray che gli dice che cosa ha un virus lui ha un virus guarda no l'ha broccato lui hai visto avrei resi utile l'ennesimo ulti di Simone cazzo no 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 cazzo ma che ci piace il mio fantasma io romperebbe il culo il mio fantasma mi romperebbe il culo non ucciderlo lo voglio mangiare no no non l'ho mangiato se ho tancato prendila tu prendila tu che io la recupero la vita grazie rompete una torre e mi sarò 250 ho 4200 crediti di creditozzi non posso usarli di stendini si chiamano stendini hai ragione soffri si che l'avevo deciso io tra l'altro io e il nome o Giudi ce l'ho la foto in google drive quella con su scritto ai tot stendini ma così avevo visto la moneta di nuova di nuova i bitcoin erano no no erano stendini la mia q se sono troia con la mia q se sono troia adesso corravo no li ho presi tutti progetto mi vuole mangiare la penta la penta la penta prenditela prenditela tutto d'osso? si si sì PUTTANA me l'ha detto lui è una PUTTANA se è una PUTTANA se è una PUTTANA sei una PUTTANA ci ha detto lui sei una PUTTANA io sto tutta notte a caricare il video su youtube caricalo caricalo oh ma quel ciò che tu è grosso c'è una f*****a è colpa tua no guardate che vuoi ammelo tanto hai preso la prima kill giusta in vita tua hai preso la prima ma se la prima è la prima ulti che tiri giusta non ci posso credere oh mamma mia non ti parla più sei uscito ma amichi ha resquittato da ts ha resquittato porca troia non è vero di solito tu non le prendi le ulti ecco il battuetto 1 si io l'ho ultato di solito mi riaccazzo esatto oh mamma mia mi sto male io sto pensando avrei preferito ks'arlo con la pallina addirittura sarebbe stato molto più stronzo ma gli ase sarebbe stato stronzo ok ahahah le mangerò le gambe ult 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 si va bene ahahah sei una ultana ahahah 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 io non smetterò più di ridere per questa ahahah adesso mi sento in capa ahahah 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 inizi bene la tua vita da diplomato killer oh no bellissimo ahahah 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 perchè ho premuto la w scusa ma c'è qua ah 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 il nostro e via eccolo sono una brutta persona nix sono successe cose che tu non puoi neanche immaginare sono una bruttissima persona aspetta che faccio subito spectate così mi guardo no 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 ma è troppo tardi la cosa che doveva succedere è successa esatto cosa ha fatto sono una bruttissima persona ahahah ha scioppato? no peggio è andato con un uomo per farsi dare 60 no 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 Sto tutta la notte con il computer acceso per caricare il video E' lui che l'ha pregata Ed è tuttora qua che subisce i cancari A te Simone? No, 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 l'ha rubata a Michi Michi rituitato da TS, non parla più E mi sento scrivere, e mi sento dire se hai una puttana Se hai una puttana E mi dice Prima di te aveva metà vita, aveva fatto una quadra Dato che gli stavano scappando gli ulti che tolgo metà, aveva un po' di vita E mi dicono sì Alla fine KS E allora il killer mi fa E' colpa tua, me l'hai detto tu Gli faccio io, no, è colpa tua da quando in qua prendi le ulti Ma com'è Vladimir? Fa schifo E' zancoso come un maiale Però fa schifo Killer muore così Però se lo merita Michi eh, perchè non ho ancora fidato al puoro Io lo dico lì eh Aia Aia E allora sì Mi sento in colpa Guarda il killer che sta facendo 25-19 Guarda il killer che sta facendo 25-19 E' tutta colpa tua Oh oh, gliele hai proprio scritto Ma è già... no Qualcuno vuole una tazza di te Porca incivile se sto per morire E sei morto nel... nel video Tre minuti fa Preoccupante come cosa Dai buttiamoci A parte che lui non mi sento Dai che la finiamo che così almeno risparmio un po' di qualità e un po' di caricamento Ti prego fammi vedere subito il video Grazie